Martedì 22 ottobre parte a Silea lo sportello in forma lavoro. Assessore Rossella Cendron, cosa farà lo sportello? No, noi siamo molto felici di aver avviato questo sportello perché sarà un grosso valore aggiunto per il territorio, quindi sia nella ricerca di lavoro con un accompagnamento puntuale e personalizzato e sia sarà un valore aggiunto anche per le nostre aziende che avranno un canale in più per cercare le figure professionali che fa in caso loro. Un grazie davvero per aver avviato insieme a noi questo progetto che avrà sicuramente i suoi fondi. Delisena, cosa farà lo sportello concretamente? Si prenderà in carico le persone, le accompagnerà a fare il punto della loro situazione formativa e professionale e a progettare quello che è il loro piano per ritornare nel mercato del lavoro. Ecco qua vediamo gli orari e a chi rivolgersi. Grazie.